Un uomo è stato tratto in arresto dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 60 grammi di roina. L'uomo era stato fermato nel corso di alcuni controlli effettuati dalle fiamme gialle in prossimità degli svincoli autostradali della provincia nel corso dei quali sono stati fermati oltre 308 mezzi ed ispezionate oltre 450 persone. L'uomo alla guida di un'autovettura proveniente dalla zona del Casertano aveva destato l'attenzione dei finanzieri perché percorreva il tregitto di rientro in città a velocità sostenuta. Avviato il controllo l'individuo manifestava un evidente stato di tensione psicofisica che traspariva dalla presenza di pupille dilatate e occhi arrossati tipico di chi utilizza abitualmente sostanze stupefacenti. L'immediato riscontro di eventuali precedenti di polizia alle banche dati in uso al corpo evidenziava altresì la presenza di numerose denunce a carico del soggetto che inducevano i finanzieri calabresi ad eseguire un'ispezione del mezzo di trasporto con l'ausilio delle unità cinofide. Il soggetto ha resosi conto di essere stato scoperto e di essere in pericolo di vita segnalava di aver ingerito sostanza stupefacente e veniva immediatamente accompagnato presso il locale ospedale. I conseguenti esami diagnostici permettevano di rinvenire all'interno dell'organismo dell'uomo diversi ovuli imbottiti di 60 grammi di eroina e di attivare le conseguenti procedure di espulsione della droga. Con il quantitativo di eroina acquistato lo spacciatore sperava di realizzare oltre 300 dosi che gli avrebbero fruttato guadagni per oltre 16.000 euro.